dalla pandemia all'elezione di acquaroli un anno raccontato da rossini tv le marche chiudono il 2020 con 41 mila contagiati al covid 19 valle foglia pronta ai tamponi di massa si comincia al 16 gennaio la mezzanotte di capodanno su rossini tv e con sconcerto delirico in diretta da fano una buona serata tutti voi telespettatori di rossini tv e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale con l'edizione delle giovedì 31 dicembre sono infatti le ultime ore di questo 2020 un anno travagliato e profondamente segnato da un'emergenza sanitaria che ha prodotto anche una emergenza economica per tante categorie produttive della nostra regione e infatti nel nostro primo servizio vogliamo farvi ripercorrere questi 12 mesi raccontati proprio da noi di rossini tv che 2020 ci lasciamo alle spalle dalla seconda guerra mondiale non si conviveva con un anno così profondamente marcato da una tematica tanto pervasiva come la pandemia che l'ha contrassegnato rossini tv vi ha raccontato ogni sfaccettatura della convivenza col covid 19 fin da febbraio mese in cui si rilevò a valle foglia il primo caso positivo di contagio a un virus che in poche settimane si è allargato a macchia d'olio con tutte le ripercussioni la malattia i ricoveri lo stress degli ospedali i primi morti a marzo vi abbiamo raccontato gli effetti della pandemia sul vivere quotidiano dalla chiusura delle scuole alla caccia ai disinfettanti e mascherine e ancora la chiusura delle attività commerciali alla quale è quella delle fabbriche fino al lockdown di marzo aprile e inizio maggio ad aprile vi abbiamo raccontato la riorganizzazione sanitaria dall'ospedale di pesero divenuto presidio covid alla novità dei checkpoint guariti per i tamponi in automobile vi abbiamo raccontato la ripartenza di maggio con la fine del lockdown la sospirata chiusura dei reparti di rianimazione il gratificante raggiungimento degli zero ricoveri per coronavirus a marche nord il ritorno a scuola per gli esami di maturità in presenza è stato il via ad una nuova fase di un'estate di ripartenza a ripartire ci ha provato a fatica anche il turismo con nuovi accorgimenti come la pedonalizzazione di viale trieste vi abbiamo raccontato un'estate di riorganizzazione scolastica fra significazioni didattica a distanza e limitazioni ai trasporti fino al ritorno degli studenti in aula a settembre conciso con altre novità colme di speranza l'inaugurazione della nuova scuola di viale marmora e il ritorno di un corso di laurea universitaria pesaro negli spazi di palazzo gradari vi abbiamo raccontato un anno di svolta per la politica del territorio regionale col governatore luca ceriscioli protagonista della gestione del lockdown che ha lasciato il posto a francesco acquaroli primo clamoroso caso di una giunta di centrodestra nelle marche una giunta costretta a gestire la fase 2 dell'emergenza sanitaria la disputa politica fra zone gialle arancioni o rosse fino ad arrivare a dicembre con il primo screening di massa preceduto di qualche giorno all'avvento dei vaccini vi abbiamo costantemente raccontato l'altro lato della pandemia quella della crisi economica che ha messo a dura prova tante attività costrette a non lavorare agenzie di viaggio palestre turismo negozianti bar e ristoranti tante le proteste di piazza le più discusse quelle portate avanti da umberto carriera tantissimi gli eventi cancellati cancellata anche la presenza dello sport in presenza dei suoi tifosi quelli di vispesero fano italservice e quelli della vl che hanno potuto vedere dal vivo la carpegna prosciutto più brutta destinata ad una retrocessione salvata marzo solo dal blocco del campionato per pandemia ma non hanno potuto fare altrettanto con quella guidata da repegia che conclude il 2020 in una posizione d'alta classifica in cui non stazionava da un decennio e in questo 2020 funesto rossini tv vi ha aggiornato quotidianamente con i report di contagiati ricoveri ed eccessi da covid 19 nelle marche nel prossimo servizio cerchiamo di capire che eredità ci lascia questo 2020 in termini di convivenza con la malattia il 2020 ci lascia in eredità una spiacevole abitudine quell'angosciante vivere quotidiano scandito dai bollettini giornalieri forniti da gores e servizio sanitario regionale da 11 mesi ogni giorno le marche sono alle prese con i numeri dei contagi e sono alle prese con l'analisi della loro crescita o decrescita da febbraio si è costretti a maneggiare numero di tamponi tipologia di tamponi da nuove diagnosi a percorso guariti fino ai più recenti test antigenici una sequenza di dati che presto ha cominciato ad allargarsi a numero di ricoveri terapie intensive pressione sugli ospedali e purtroppo i decessi le marche al termine di questo tremendo 2020 hanno infatti pianto 1570 morti il fardello più pesante per la provincia di pesaro urbino che ha superato i 660 decessi di persone contagiate da covid 19 in totale nelle marche da inizio pandemia sono risultate positive al coronavirus 40.000 persone su circa 310.000 tamponi effettuati su casi unici diagnosticati da inizio pandemia 520.000 invece tamponi processati considerando anche quelli ripetuti sulle stesse persone una pandemia nelle marche che ha avuto picchi primaverili discese estive e nuove risalite in autunno è infatti del 13 novembre la più alta impennata di contagi da covid 19 con 779 nuovi casi positivi in un solo giorno è invece fresca di una settimana la giornata con più tamponi processati il 23 dicembre ne sono stati effettuati ben 5062 nel percorso nuove diagnosi e sono state giornate di bilancio di fine anno per varie amministrazioni comunali della nostra provincia a valle foglia durante la conferenza di fine anno del sindaco palmierucchielli il primo cittadino anticipato come lo screening di massa con i tamponi a montecchio ed intorni comincerà con ogni probabilità il 16 gennaio ve lo anticipiamo nella intervista realizzata da andrea sabatini l'anno che si conclude è un anno molto difficile molto pesante uno dei più difficili della storia della mia esperienza politica amministrativa nel 2021 penso che debba essere un anno non solo del vaccino e della diciamo della prospettiva futura del della possibilità di recupero del lavoro dell'occupazione dello sviluppo della crescita e per noi sarà anche l'anno del comune nuovo del teatro nuovo del raddoppio del depuratore sarà l'anno del polo per la sicurezza obiettivi molto importanti per questa comunità qui siamo a montecchio il cuore pulsante della città futura un territorio che attorno a montecchio ruotano oltre 50 mila abitanti con una fluttuazione di altri 50 mila abitanti che da un lato è un aspetto molto positivo quindi anche il 2021 sarà positivo per l'attività produttiva per l'attività economiche ma anche dal punto di vista del del dei contagi come in questo caso delle vicende del covid che hai diciamo forti preoccupazioni abbiamo chiuso un anno molto pesante anche dal punto di vista delle perdite umane e a cui va sempre il nostro pensiero e guardiamo però con fiducia con speranza con un grande ottimismo nel 2021 2021 sarà l'anno del vaccino sarà l'anno della ripresa economica sarà l'anno della riscossa delle difficoltà che abbiamo avuto e recuperando e guardando in avanti per quel che riguarda valle foglia sarà diciamo un boom di attività economiche private e anche di attività pubbliche ecco citato 4 5 questioni che sono milioni di euro di investimenti che creano lavoro occupazione crescita e prospettiva futura quindi puntiamo come sempre ad avere un ruolo centrale in questo territorio di questa vallata e a far crescere prevediamo anche l'abbellimento della piazza di montecchia abbiamo messo circa 100 mila euro per arredarla sistemarla oltre che l'abbiamo già illuminata con tutte le lampade al led eccetera e quindi faremo probabilmente dal 16 il 21 anche a tappeto questi tamponi per verificare quante persone ancora magari sono asintomatiche o sintomatiche e per poter debellare quanto prima questo virus che affligge un po tutta la comunità il comune di urbino ha vietato i botti di capodanno in centro storico fino alle 12 dell'1 gennaio montelabate aveva fatto altrettanto con una ordinanza in vigore fino all'epifania ma non ci sarà un'ordinanza unitaria per l'intera provincia una impraticabilità che è stata valutata ieri in prefettura dopo che anche il gruppo consigliare della lega di pesaro aveva chiesto un simile provvedimento a pesaro e fano ci si limita invece a un appello al buonsenso e alla limitazione già imposta dal coprifuoco il prefetto la polla ha però anticipato che ci sarà tolleranza zero davanti ad esagerazioni nei confronti di chi esagererà coi petardi le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece a un intervento dei vigili del fuoco impegnati ieri a sedare un incendio in una casa a villa ugolini in zona monte ciccardo un rogo nato da un bidoncino con ceni retizzoni tolti dal camino che messi in veranda sono andati fuori controllo con le fiamme che hanno reso inagibile mezza abitazione vigili del fuoco impegnati per ore anche a villa fastigi per domare un incendio accidentale nel silos della ditta del prete di via montanelli parliamo di saldi che nelle marche cominceranno il 16 gennaio fino al 14 gennaio ci saranno invece le vendite promozionali questo quanto stabilito dalla regione restando in tema di commercio ricordiamo che il primo mercato dell'anno a pesaro al san decenzio si terrà lunedì 4 gennaio e non il martedì in quanto il 5 gennaio si rientrerà in zona rossa ed ora lo spazio dedicato alle segnalazioni per le quali vi ricordiamo il numero whatsapp dedicato 370-366-7210 le foto che vi mostriamo pubblicate dalla pagina facebook del quartiere san bartolo evidenziano come sulla strada panoramica castel di mezzo all'altezza della strada rive del faro che porta alla spiaggia ignoti vandali abbiano segato con una speciale attrezzatura per il ferro il cartello che riporta orari e limitazioni d'accesso alla panoramica un episodio doloso ancora più grave perché avvenuto in una giornata in zona rossa il comune ha esposto denuncia contro ignoti e come sappiamo sarà un capodanno con coprifuoco alle 22 nessuna festa nessun veglione se non in modalità streaming rossini tv dunque vi terrà compagnia questa sera per il brindisi di mezzanotte trasmettendo in diretta lo spettacolo dal teatro della fortuna di fano dal titolo sconcerto delirico uno spettacolo con l'orchestra sinfonica rossini e il san costanzo show che vi ricordiamo nel servizio di simone celli le poltrone saranno vuote ma il palco sarà più pieno del solito il tradizionale appuntamento di fine anno con i comici del san costanzo show cambia inevitabilmente pelle perché saranno affiancati niente meno che dall'orchestra sinfonica rossini per uno spettacolo a cavallo tra musica e risate ma anche perché per la prima volta il pubblico non si troverà dentro il teatro della fortuna di fano ma assisterà direttamente da casa è infatti tutto pronto per la terza diretta streaming del natale più fortemente evoluta dall'amministrazione e frutto della sinergia con realtà come la proloco e lo stesso teatro cittadino lo spettacolo dall'eloquente titolo sconcerto delirico sarà visibile in diretta su rossini tv la sera del 31 dicembre a partire dalle ore 23 un altro appuntamento che sarà in diretta su rossini tv su tutti i canali social del comune di fano sarà quello del 31 la serata di capodanno un modo attivo per far lavorare insomma il mondo dell'arte dello spettacolo un modo per entrare nelle case dei cittadini un modo per passare una serata insieme in modo divertente in questo caso con l'orchestra sinfonica rossini e con gli amici del san costanzo show e brinderemo insieme insomma la mezzanotte nella speranza che il 2021 sia un anno migliore di questo 2020 sarà una serata della classica serata di fine anno quindi il tema è divertirsi e l'altro tema è quello di unire come abbiamo fatto per i precedenti eventi l'orchestra a qualcos'altro che permetta questa suggestione cioè il divertimento questo qualcos'altro sono i comici del san costanzo show con il quale con i quali abbiamo già collaborato e che io personalmente ritengo davvero bravissimi dico sempre che la cosa più difficile su un palcoscenico e far ridere e quindi tanta stima nei loro confronti faremo con il nostro quintetto d'archi delle musiche di repertorio di musica da camera e commentate in modo davvero molto divertente ho visto le prove vi assicuro tantissimo divertimento dal san costanzo show per cui eseguiremo il dvorjak bisè hoffenbach kurtweil e quindi sarà una serata che ci permetterà di arrivare alla mezzanotte in questo percorso cercheremo anche di includere alcuni spettatori da casa non svelo di più però per permettere a questo appuntamento di recuperare un po di quel pubblico che fino ad oggi abbiamo dovuto tenere fuori dal teatro il san costanzo show tutti gli anni fa il capodanno teatro e anche quest'anno ci tocca fare il capodanno teatro volevamo andare in vacanza ai caraibi chi voleva andare in sud italia chi voleva andare in francia ma giustamente non possiamo andare da nessuna parte siamo in zona rossa per cui siamo a teatro eviteremo compagnia tutta la serata dalle 11 di sera fino a mezzanotte un quarto a reti unificate andremo su rai 2 su canale 5 tra le 5 non ci siamo su rossini tv dovete essere tutti collegati su rossini tv mi raccomando dalle 11 e abbiamo un grande spettacolo noi insieme all'orchestra rossini di pesaro giustamente quindi saremo insieme a fare questo grandissimo spettacolo ma volevo dirvi qualcosa in più il nostro direttore artistico ci parlerà che cosa diranno i comici direttore artistico francese francese scusate bertulli io m'appelle bertulli bougonville e le parler dello spettacolo je ne peux parler parce que le registre non vuole che j'ai discorre e dello spettacolo a parte non si è capito niente traduco io non può parlare dello spettacolo perché il regista non vuole che cosa mi ha detto che parlava dello spettacolo scusi vabbè vabbè vada via vada non possiamo intervistare non possiamo dirvi niente ma potremmo dirmi che i personaggi ci saranno ci sarà orietta pedotti ci sarà rosa della cecca per chi conosce i nostri personaggi ma anche da pesaro avremo fantastici ospiti quindi tutta la regione sarà rappresentata dalla bassa all'alta marca e anche la francia abbiamo detto e quindi ciao a tutti ci vediamo il 31 alle 11 dalle 11 alle mezzanotte un quarto non dovete perdere assolutamente niente e poi il cotechino le lenticchie continuate a mangiarli dopo la mezzanotte ma fino alle 11 poi dopo mi raccomando a tutti quanti capodanno con san costanzo show dal teatro della fortuna rossini tv e dunque appuntamento tra poche ore con la serata di san silvestro su rossini tv non c'è solo però il brindisi di fine anno ma comune di fan orchestra sinfonica rossini organizzano anche il concerto di capodanno in programma domenica 3 gennaio un altro appuntamento streaming importante sarà domenica 3 di gennaio il concerto di capodanno un apportamento ormai classico ovviamente dal teatro della fortuna con l'orchestra sinfonica rossini che avrà come direttore agiman l'evento del 3 è il concerto di capodanno è stato collocato in questa giornata è domenica sarà alle 12 perché quest'anno al teatro si parte con la prosa però è stato di comune accordo questa questo palinsesto e avremo la grande orchestra saranno 45 elementi diretti come sempre dal nostro direttore artistico daniele agiman eseguiremo le prelude di liste quindi un bel pezzo importante poi di strauss abbiamo trovato un waltzer che si intitola immagini di carnevale e quindi in questa occasione ci sarà una piccola sorpresa per celebrare quello che è uno dei tratti distintivi della nostra città cioè il carnevale poi eseguiremo il nostro buon rossini e anche puccini con un tenore domenico menini davvero molto bravo che ha iniziato una splendida carriera i giardini di via del risorgimento nel fossato adiacente all'ospedale san salvatore di pesaro sono stati intitolati a paul herris medico che nel diciannovesimo secolo ha fondato il rotary vediamo il servizio noi oggi intitoliamo questi giardini chiaramente in collaborazione con l'amministrazione comunale con il comune di pesaro a paul herris paul herris è colui che insieme ad altre persone nel mille nel 1800 e quindi nel secolo diciannovesimo insieme ad altre persone ha fondato a chicago il rotary quindi ha fondato questo sodalizio fra varie persone che all'epoca erano anche persone che appartenevano alla borghesia di quella città la borghesia appunto di chicago per unire le forze per cercare di fare qualcosa per persone che avevano meno quindi per il proletariato comunque per le classi più disagiate e da questa idea che possiamo definire embrionale il rotary appunto è nato per opera di paul herris a cui intitoliamo i giardini questa mattina insieme ad altre persone ad altri professionisti della città e in questo in questi secoli questo sodalizio si è diffuso un pochino in tutto il mondo e siccome la città di pesaro ha due club rotary il pesaro rossini cui apparteniamo sia io che l'attuale presidente giorgio de rosa che il rotary pesaro e quindi pesaro ha una lunga tradizione rotariana. Ci tenevamo a questo momento simbolico molto atteso non solo da dei sostegni del rotary ma in realtà diciamo un segnale anche di conferma dell'amicizia e dei rapporti che sono tra i rotary in generale la città e nello specifico anche l'attività dell'amministrazione comunale con rotary in questo caso rotary rossini ma con rotary in generale ci sono tanti momenti durante l'anno di collaborazione sul sociale sulle finalità che l'associazione persegue basta pensare all'attività che con i rotary rossini sono fatte recentemente anche per la biblioteca di borgo santa maria dedicata a rodari per cui diciamo l'azione del rotary è stata importante per l'acquisizione di materiale didattico e per gli arredi ma ripeto sono tante le occasioni al di là di questo poleri sono figura che merita sicuramente un ricordo in una città come la nostra il motto del rotary è il simbolo il motto del rotary è una ruota dentata una ruota con degli ingranaggi la pandemia non ha fermato questa ruota noi siamo riusciti ad andare avanti in tutte le nostre iniziative anzi addirittura le abbiamo potenziate chiaramente abbiamo dovuto scoprire dei modi nuovi dei modi diversi sia di riunirci per fare convivialità sia per poter intervenire sul territorio che cosa abbiamo fatto abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla comunità locale cercando di intervenire per tutto quello che potevano essere le necessità legate alla pandemia in un primo momento durante il primo la prima ondata marzo aprile siamo intervenuti con degli interventi a favore dell'ospedale di pesaro sfavore di marche nord quindi per potenziare i reparti di terapia intensiva oggi che siamo durante questa seconda ondata per fortuna le strutture sanitarie si sono organizzate e quindi il nostro intervento si è rivolto verso la popolazione verso le classi più indigenti ed è finita con una sconfitta il 2020 della vl la squadra di repe già dopo due vittorie ha perso 100 a 80 ieri in casa della virtus bologna delfini compagni restano in partita per due quarti poi la squadra di giorgevic dilaga con le prestazioni di belinelli e marcovic nella carpegna prosciutto basket non bastano le buone prestazioni di robinson e tambone con 15 e 13 punti a referto il 2021 del basket pesarese comincerà il 3 gennaio in trasferta a milano contro larmani e finisce invece con un confortante 2 a 2 in rimonta l'ultimo capitolo del 2020 dell'ital service al quale avete potuto assistere ieri in diretta su rossini tv la squadra di calcio a 5 pesarese va sotto 2 a 0 a treviso col came d'osson ma recupera con le reti di onorio e a borda l'ital service chiude così l'anno al secondo posto in classifica ormai quasi certa dell'accesso alle finalet di coppa italia si tornerà però in campo già il 3 gennaio in trasferta a catania e riprenderà invece il 10 gennaio il campionato di calcio di serie c della vispesaro che intanto oggi ha nominato alessio peroni come nuovo responsabile dell'area tecnica il 43enne a scolano dopo un anno e mezzo da team manager assume dunque una nuova importante carica dirigenziale e con lo sport si chiude il nostro telegiornale e si chiudono le notizie di questo 2020 di rossini tv prima di augurarvi buon anno vi ricordiamo anche gli appuntamenti di questa sera appuntamenti assolutamente da non perdere a cominciare dalle 20 subito dopo questa nostra prima edizione delle tg i fatti del 2020 tre ore con tutti i servizi più significativi di questa annata raccontata da rossini tv che vi riproponiamo anche in replica domani alle 12 subito dopo i fatti del 2020 da non perdere il capodanno di rossini tv con lo spettacolo dal teatro della fortuna trasmesso appunto dalla nostra emittente in diretta sul canale 633 spettacolo che si chiama sconcerto delirico con l'orchestra sinfonica rossini e san costanzo show insieme in una serata di auguri risate e grande musica il primo appuntamento dell'anno nuovo del 2021 è invece quello con le messe su rossini tv le messe per le festività con la prima dell'1 gennaio che sarà alle 18 e 30 sul nostro canale ed è davvero tutto per questa edizione del tg e per questo 2020 da tutta la redazione un cordiale saluto e il più sentito buon anno da parte di rossini tv